Diverse segnalazioni all'associazione Robin Hood sulla presenza di topi da fognatura nei pressi del laghetto del parco fluviale Vezola a Teramo. A rischio quindi la salute di bambini e animali domestici che frequentano la zona. Già da un anno e mezzo l'associazione aveva allertato l'assessore di Buonaventura che tramite i suoi social ha fatto sapere che provvederà nell'inserire delle trappole grazie anche all'ausilio del vigile ecologico. Abbiamo chiesto questo intervento al sindaco perché il sindaco è la massima autorità nel comune sanitario e quindi il sindaco che deve assumersi responsabilità di eventuali problematiche che ci sono rispetto a un bambino che tocca gli escrementi o contaminazioni ci possono essere di vero tipo. Per quanto riguarda appunto avete fatto la segnalazione un anno fa, ancora non è stato fatto niente, sperate nei prossimi interventi? Sì, pare che adesso mezzo ai social l'assessore ha risposto che sono state individuate le trappole per i topi. Aspettiamo questa installazione perché ad oggi non ci sono, evidentemente poi bisogna fare le gare per acquistarle. Saremo attenti e verificheremo che sarà fatto tutto il possibile. Lei ha visto che quando siamo arrivati c'erano beatamente e tranquillamente in giro questi topi quindi non è anche la percezione del problema che può essere per loro l'uomo quindi sono anche pericolosi da questo punto di vista. Nocive per l'uomo ma anche nocive per gli animali che navigano nel laghetto? Sì, perché è notorio che sono omnivori e quindi mangiano le uova, per esempio abbiamo visto delle gallinelle che ne difiono a terra, anche per loro, costituisce un problema. Grazie.